Lavori in corso a Calata Bettolo nel porto di Genova con l'ampliamento degli spazi operativi. Il cantiere è stato avviato a fine aprile dello scorso anno e vedrà chiudersi la prima fase a fine 2024. Alle mie spalle vedete il getto che è in corso questa mattina per la realizzazione delle travi di fondazione, delle nuove vie di corsa, delle gru di piazzale e delle travi slab, che sostanzialmente sono le travi dove poi verranno appoggiati i container. Questo intervento riguarda la parte di piazzale, lato levante. Terminato questo primo lotto di lavori ci si sposterà con un ulteriore secondo lotto nella parte di ponente del piazzale con il trasferimento del concessionario che attualmente sta utilizzando proprio quella parte di piazzale su questo nuovo lotto realizzato. Complessivamente l'investimento per le opere infrastrutturali dell'intero Terminall ammonta 307 milioni di euro con un contributo pubblico di 27 milioni e 280 milioni investiti direttamente dal concessionario MSC.